Dopo il ripristino avvenuto poco più di otto mesi fa, il reparto di pediatria di Pesaro rischia nuovamente di essere accorpato al Santa Croce di Fano. Ipoteticamente una mossa identica a quella fatta dalla precedente amministrazione regionale nel periodo risalente al Covid, ma che dopo quasi tre anni aveva visto il ripristino del servizio a Pesaro nonostante le numerose difficoltà. Un dietrofront provocato probabilmente da un'accelerazione negli spostamenti dei reparti in vista della realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia, che però disterebbe ancora anni luce dalla partenza del cantiere prevista per settembre 2024, data che pare difficile da rispettare. Si tratterebbe di un accorpamento per cinque anni dove le motivazioni, oltre a quelle di creare spazi per i reparti che devono sgomberare da Muraglia, sembrerebbero diverse. Tra queste la bassa attività dei ricoveri paragonate alle alte spese necessarie per mantenere i pediatri privati, i cosiddetti aggettone. Una strategia che ispira fiducia al consigliere regionale Baiocchi, convinto che in questo modo i lavori del nuovo ospedale vengano velocizzati. Del parere totalmente contrario è invece Biancani, che lamenta le spese fatte appena nove mesi fa per ripristinare al San Salvatore un servizio che ora parrebbe venire meno. Oltre a non credere allo spostamento dei reparti di Muraglia, vista ancora la mancanza di un progetto chiaro del nuovo ospedale. Attraverso un comunicato, il direttore sanitario dell'Ast di provincia, Edoardo Berselli, ha fatto sapere come in corso ci siano valutazioni tecniche per gli spostamenti dei reparti nel rispetto delle priorità di ognuno. Contestualmente, per essere pronti con il cantiere per il 2024, sono state avviate le procedure per l'acquisizione di immobili idonei in cui trasferire temporaneamente le strutture sanitarie. L'obiettivo è trovare soluzioni che impattino il meno possibile sui bisogni dei pazienti, considerando però che si tratta di interventi momentanei in vista di una rivoluzione sanitaria che coinvolgerà non solo la struttura ospedaliera di Pesaro, ma anche di Fano, Pergola e Urbino.